Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di sbadiglio. Perché sbadigliamo? Allora, in realtà tutti pensano che è perché una persona si sta annoiando. In realtà è più collegata una cosa del cervello, ovvero quando le nostre energie e la nostra attenzione è arrivata al limite, sbadigliamo per prendere una boccata di ossigeno. Quindi è proprio un'azione involontaria che non possiamo controllare che fa il nostro corpo per avere più ossigeno. Ed è un avvertimento che ci manda il nostro corpo come segnale che è il caso di riposare, quindi di sopparci un attimo, un quarto d'ora, dieci minuti o di più, dipende da quanto siamo stanchi, e di rilassarci, di respirare tra l'altro in modo corretto e attivamente. Quindi in realtà avrete capito che non c'entra niente con la noia, ma è più una questione di ossigeno e di riposo. E nulla, questo è tutto, iscriviti al canale per avere il tuo video personalizzato, lascia un commentino qui sotto, seguimi su Instagram e su Facebook, trovi link qui sotto in descrizione e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao! Ciao!